Sono qui con José e andiamo a martinizzare il suo telefono Vai Allora, iPhone 13 13, sì Ecco Allora, sai come la chiamo io questa pellicola qua? Questo è un hidrogen Ok Vedi, però, se ne ti protegge il telefono non serve a niente Ok Ora siamo qua, però io nel mio negozio faccio così e le lancio Caso vuoi, è che ci siamo incontrati Comunque sei bravissimo, sto davanti alla telecamera, eh, va Però smettila di farti le foto con mio marito Ti prego Mamma mia, qui dietro ce l'hai Eh, lo metto pure in me Mi viene da piangere Dove l'hai fatta? Quanti anni fa? L'ho fatta due, tre anni fa Con l'assicurazione Qualche cerchietti? All'impronso sono comprati i cerchietti Bello questo E poi martinizzare Questa è una nuova cover, stanno andando a ruba Perché è particolare Questo è bello Materiale Bello Fatto bene Dì la verità, ti piace? Bellissimo Dì la verità Veramente bello Bellissimo Ciao ragazzi Ciao